Il mondo del cinema in lutto. La drammatica notizia di poco fa. È morta Sofia. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il mondo del cinema è in lutto per la prematura scomparsa di Sofia Leone. Nota attrice, deceduta a soli 26 anni. La tragica notizia è stata confermata recentemente. Nonostante il ritrovamento del suo corpo senza vita sia avvenuto lo scorso primo marzo nella sua abitazione. Nata nel 1997 e entrata nel mondo del cinema a 18 anni, Sofia Leone si era guadagnata una notevole fama nell'industria. La morte dell'attrice ha lasciato un profondo vuoto tra familiari, amici e un'ampia schiera di fan. Gli investigatori stanno esaminando l'ipotesi di un omicidio. Vista la natura sospetta delle circostanze in cui è stata ritrovata la sua casa. Segni di effrazione e violazione di domicilio hanno orientato le indagini verso questa triste eventualità. L'agenzia. Con cui l'attrice collaborava. Ha confermato questo svolgimento nelle indagini. Sofia Leone. Oltre ad essere un volto noto nel suo campo, aveva accumulato un patrimonio stimato in oltre un milione. La sua improvvisa morte ha sollevato molte domande. In attesa di ulteriori informazioni sulla causa esatta del decesso. Poco prima della sua morte, Sofia aveva lasciato un messaggio sui social network. Invitando i suoi seguaci ad apprezzare la vita e a liberarsi dalle routine quotidiane. Queste parole assumono ora un significato ancora più toccante alla luce della sua scomparsa. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.